Io spero di no, è vero che perdere il derby è duro per noi, per i tifosi, eppure oggi. Però siamo ancora davanti a loro, adesso dobbiamo aspettare quello che fa la Juve, però pensare più a mantenere il secondo posto e non perdere vista quello che è importante. Diego, ma c'è stato un problema tattico o di stanchezza fisica? No, penso che sono due partite dove loro si hanno trovato meglio di noi, abbiamo giocato molte partite insieme in tre o quattro giorni contro la squadra dura e sicuramente l'energia si usa di più magari in un'altra partita. Però siamo professionisti, siamo abituati a questo e non deve essere un'alige. L'ultima... Adesso si va a Lione, Diego, la partita fondamentale per il suo tempo della stagione? È come abbiamo affrontato tutti questi, non è che per aver perso non abbiamo lasciato tutto. Come ho detto adesso, i ragazzi sono morti fisicamente per il lavoro che abbiamo fatto, però ci rialzeremo, giovedì proveremo di vincere di nuovo. Grazie.